Benvenuti ragazzi in un nuovo video e parliamo ancora di Solidity. Perché parliamo ancora di Solidity? Perché è probabilmente, anzi sicuramente, il progetto che si sta confermando essere più solido appunto, quindi scusate il gioco di parole ma ormai sono sei mesi che sono dentro e non ho mai visto niente di simile. Però quando dicono non ho mai visto niente di simile non voglio far passare che siamo di fronte alla ricchezza in sei mesi, ma niente di simile nel senso che è un prodotto veramente eccellente da tutti i punti di vista, sia proprio della qualità del prodotto in sé, quindi del copy trading, sia dell'assistenza, sia della documentazione e tutto il resto. Ricordandomi come sempre che non sono un consulente finanziario e di conseguenza non ho responsabilità sui vostri investimenti, vi ricordo anche di venire subito nella community Telegram per vari motivi, tra cui uno, siamo una community di 2275 persone ad oggi e ci aiutiamo a vicenda. Quindi io, come è successo per esempio per Solidity, magari lo scopro grazie a qualcuno che è dentro la community. Siamo tutti allo stesso livello, io chiaramente ho un pochino il polso della situazione, soprattutto nella moderazione, quindi nel momento in cui qualcuno esagera posso contenere, ho liti e cose del genere, però la cosa importante è che qui abbiamo i canali dedicati a Solidity. Uno, Solidity Work, dedicato a chi vuole usufruire del piano marketing, che è veramente ottimo, e uno dedicato proprio al canale Solidity, dove abbiamo anche la fortuna di avere il nostro Mattia, che ci assiste praticamente tutti i giorni e c'è un sacco di materiale interessante di cui fra poco parlerò. Quindi Solidity, super super prodotto. Oggi vi voglio far vedere due o tre cose importanti, partendo dai dati. Allora, io sono dentro da novembre e ad oggi non ho mai avuto un problema di nessun tipo, è sicuramente il protocollo più tranquillo di tutti. Fa una media del 2% al mese netto, quindi al netto delle commissioni. Ricordiamoci che le commissioni, il 50% del nostro lordo viene preso in commissioni, ma il 40% di quel 50% va dato al piano compensi, questo qui. Non ne parlerò oggi, ma è sicuramente molto interessante. A me adesso incomincia pian piano a praticamente rendere quanto rende il prodotto in sé. La cosa veramente buona è che è un prodotto che si può consigliare anche a persone a cui teniamo di più, amici e parenti, perché il rischio è veramente super super calcolato e contenuto. Allora, io sono dentro da novembre, quindi qui, dall'11 novembre per esattezza, e questo è l'andamento. Quindi guardiamo un po' di che cosa stiamo parlando. Una cosa che sembra finta, chiaramente, ma ormai tutte le persone che sono dentro sanno che non è niente di finto. Ah, ecco, un'altra cosa importante, vi dico subito, nel canale Solidity Work c'è anche il link alla call che abbiamo fatto qui dentro il Discord con Luigi. Eccola qua, dura un'oretta, ma dopo questa call tante persone hanno deciso di intraprendere questo percorso perché hanno sentito parlare il trader e il creatore di questo progetto. Tornando alle percentuali, le percentuali sono più o meno fisse del 2% al mese. Ci sono degli storici annuali che si possono vedere col backtest dal 2018 e in real dal 2023 in poi. quindi questo qui fa vedere tutti i mesi, il drawdown massimo, ogni mese quanto ha fatto. E quindi la cosa importante era capire che uno, il rischio è molto contenuto, il drawdown massimo, quindi non la media, il drawdown si intende il flottante, quindi quanti soldi del nostro conto sono impegnati al massimo nelle operazioni aperte. Quindi il drawdown massimo su un conto da 100 euro, scusate, da 1000 euro, è stato il drawdown massimo, quindi il massimo che da quando è partito questo progetto, quindi quasi un anno, è stato impiegato nello stesso momento, quindi i soldi messi in, bloccati dall'operazione, massimo è stato del 4,56%, il che vuol dire che su un conto da 1000 euro sono stati massimo messi a rischio 45 euro. Ora, la cosa bella di questo protocollo è che non apre 800 operazioni tutte insieme, ma ne apre una, e finché non va a chiudere quella lì, non ne apre altre. Qualcuno potrebbe dire, sì, ma allora quanto dura questa operazione? Adesso, quanto possono durare queste operazioni? Adesso lo vediamo. Però è importante capire che con un drawdown massimo di questo tipo, e ad oggi la media ovviamente è molto più bassa, perché questo è il massimo mai raggiunto in tutto quest'anno di Real, noi, come stiamo facendo, molti di noi stanno facendo una doppia strategia, quindi una con un conto, con un moltiplicatore più alto, quindi vuol dire che invece che è un moltiplicatore per 1 dove si fa il 2% al mese, stiamo a un moltiplicatore per 5, come nel mio caso, dove faccio un 10% al mese. Un moltiplicatore per 5 vuol dire che il rischio massimo, da quello che la storia ci dice, fino adesso, di drawdown, quindi di rischio del conto, sarebbe stato del 25%, quindi 250 euro su 1.000. Ma anche se avessi messo un per 10, per dire, un per 20, quindi per 20 incomincia a diventare rischioso, perché per 20 diventa, un drawdown massimo potrebbe diventare del 100% del conto, quindi arrivare a bruciare il conto. La cosa interessante è che quando le operazioni vengono aperte, prima di essere chiuse, a meno che non vengano chiuse subito in profitto, ma quelle che aprono qualche mediazione, e adesso vediamo anche quante mediazioni sono state aperte, in che percentuale, ci lasciano tutto il tempo per tutelarci. Vi faccio un esempio. Allora, io credo che più di un per 5 col conto aggressivo non ci vado, il che vuol dire che faccio un 10% al mese, però nel momento in cui dovesse accadere, c'è un flottante che mi preoccupa, io posso aggiungere dei soldi, quindi con tutta la calma del mondo, mettere, depositare 500 euro in più, far chiudere l'operazione e ritirarmi quei 500 euro, in maniera tale da mitigare un eventuale flottante alto. Una persona che lavora con un per 10, e so che nel mio gruppo ci sono anche persone che stanno lavorando con un per 20, però ognuno corre i suoi rischi, se vede un flottante al 45%, magari si carica un 500 euro in più su un conto che ne so, da 1000, 2000, 3000, 1000 euro in più, li lascia lì finché l'operazione non viene chiusa, ripeto c'è tutto il tempo di aspettare, e poi ritira. Non succede come in altri protocolli dove vengono aperte 2, 3, 10, 15, 20 operazioni insieme, che se c'è uno spike negativo o positivo si rischia veramente flottanti molto alti e molto veloci. Qui c'è tutto il tempo per tutelarsi. Tornando alla parte sulla lunghezza delle operazioni, questo vi fa capire quanto è figo questo progetto. Su tutte le operazioni mai fatte, ok, 984, se vedete questo grafico, praticamente il 63% sono durate meno di un giorno, che è quello che succede quasi sempre. Praticamente arriviamo a un 75% totale in un giorno massimo, ma anche a un 95% totale praticamente in un massimo di 5 giorni. ci sono state 3 operazioni, guarda, oltre i 5 giorni, su 1000 operazioni, ce ne sono state 20 che sono durate oltre i 5 giorni, quindi praticamente poco, molto molto poco. Questo ci fa capire, e queste ovviamente sono le operazioni che sono rimaste in negativo per un periodo di tempo lungo, e con le mediazioni poi sono andate in positivo. e questo ci fa capire quanto tempo c'è per andare a sistemare, eventualmente tamponare. Per chi vuole andare aggressivo, per chi non vuole andare aggressivo, si fa il suo 2% al mese, col compound viene il 40-50% all'anno, netto, che, diciamo, con la stessa tranquillità, se non maggiore, per forma meglio dell'SP500, e di tante altre cose sicure, che poi però possono stare anche sotto per un paio d'anni. Invece in questo caso noi comunque continuiamo a salire, il nostro conto continua a salire. Un'altra cosa importante da vedere, è, qui come abbiamo visto, i rendimenti mensili, ma la statistica delle mediazioni. Le mediazioni sono le operazioni che vengono aperte, per mediare un'operazione già aperta, che sono quelle che ci fanno paura, perché chi è con me da un po' di tempo, sa che abbiamo visto fumare dei conti, dei nostri conti, perché fondamentalmente, c'erano questi protocolli a Martingala, dove fondamentalmente non c'era capacità di trading, e quindi apriva un'operazione, non andava bene, apriva al doppio, poi apriva al quadro, poi 8 volte, finché i conti non venivano bruciati. Qui, sulle operazioni totali, quindi 984, solo 261 hanno avuto una mediazione, quindi una seconda, terza o quarta operazione aperta. Ma adesso la cosa interessante, viene quindi il 26% con mediazione, quindi 3 su 4 senza una conto. Però, veniamo nei percentuali, su il 100% delle operazioni chiuse con una mediazione, il 67% più il 28, quindi fai 70 più 20, rimane il 95% delle operazioni, infatti sono state chiuse alla seconda mediazione. per vedere i propri numeri di tutte le operazioni, delle operazioni totali, una, due sono arrivate a quattro mediazioni, per farvi capire quanto poco ci sia il concetto di martingala qui dentro, 11 con 3 mediazioni, 73 con 2, e 175 con 1, e 723 senza nessuna. Quindi, probabilità di chiusura senza mediazione, 73 e con mediazione 26, ma probabilità di chiusura alla prima mediazione, 91%. Probabilità di chiusura alla quarta mediazione 100%, perché sono state tutte chiuse alla quarta mediazione, probabilità di chiusura alla terza mediazione 99,8%, quindi, insomma, il discorso è molto interessante. Vi invito quindi a vedervi questa live, venire in Discord, vi faccio vedere un'altra cosa, ad oggi siamo a un totale di depositi, della mia community, di 127 mila euro, obiettivo 500 mila euro di depositi nel 2024, vi ricordo di non sottovalutare il piano marketing, perché abbiamo l'assistenza, chi volesse proporre questo progetto viene nel gruppo, c'è Solidity Work, ci scrive, mi scrive in privato, e ne parliamo, ci sono già dei ragazzi con amici, community che sono entrati e stanno già facendo bene, ma la cosa importante è che non rischiate di fare, brutta figura. L'invito è sempre di entrare col minimo 500 dollari, provare e vedere come va. Io ho fatto così, sono entrato, ho aspettato mesi, poi ho aumentato il moltiplicatore a per due, e poi l'ho aumentato a per cinque, nel mio conto aggressivo. Adesso apro anche un conto non aggressivo a per uno, dove vado poi a mettere parte dei guadagni, arrivo a una certa cifra, voglio arrivare a 5 mila euro con quello aggressivo, al 10%, poi nel momento in cui mi fa 500 dollari al mese, anzi euro, mi sembra qui si deposita, 500 euro al mese, 250 li metto nel conto non aggressivo, e 250 li lascio nel conto aggressivo, in maniera tale da far salire sempre più quello aggressivo, ma far salire anche quello conservativo. Una cosa che ci ha detto il nostro agente oggi, e vi lascio anch'io con la chicca che ha scritto lui per chiusa i moltiplicatori, i risultati ci dicono che questo è il moltiplicatore massimo, anno per anno, che se è tenuto non avrebbe bruciato il conto, ma ricordatevi sempre che se uno, in questo caso qui, non si corre il rischio di bruciare il conto da un giorno all'altro, c'è sempre tempo per andare a tamponare, volendo, ok? Ovviamente ognuno, ripeto, ha la sua percentuale di rischio, la cosa, quindi, vabbè, non l'allungo troppo, però, per 4, per 3, per 7, per 9, per 8, per 15, questo per 15 è molto importante, perché il 2023 è l'anno real, è l'anno non di backtest, anche se il backtest è un backtest reale, però, questo è proprio l'anno in cui il progetto è fuori, quindi sono tutte operazioni realmente aperte, con questo drawdown qui, ci si, sarebbe potuti spingere fino a un per 15 di moltiplicatore, un per 15 vi fa un 30% al mese, ok? Senza rischiare di bruciare il conto, ognuno fa le sue strategie, ultima cosa, in questo anno si sta testando un'altra coppia, probabilmente, perché tutte le coppie di soliti vengono testate 6 mesi in demo, 6 mesi in real, prima di uscire al pubblico, e ci saranno quindi possibilità di raddoppiare, o triplicare questi guadagni, nei prossimi mesi e anni, vi terremo aggiornati, e una strategia carina è quella di aprire due conti, uno aggressivo e uno no, magari uno da, so di qualcuno che sta per 10, qualcuno che sta per 20, qualcuno come me sta per 5, perché dopo qualche mese, vedi che è talmente tranquillo, che ti viene voglia di spingere un pochino di più, è tutto, ci vediamo in Discord.